Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 guidare con prudenza per la nebbia a banchi tra Roncovilaccio e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambi di carreggiata per lavori tra i chilometri 39,400 e 37,500 e tra i chilometri 37,500 e 35,300 entrambi tra Tavarnelle e Sandonato in direzione Siena. A Firenze anche oggi in orario 7,19 sul viadotto Marco Polo all'altezza del sovrappasso di via Villamagna restringimento di carreggiata in ingresso città per lavori di ripristino del guardrail. Infine per i treni l'Euronotte 35,29,5 da Monaco di Baviera a Roma Termini al momento viaggia con 43 minuti di ritardo ferma a chiusi Chianciano alle 8,28 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!